Mi trovo in centro a Mestrino, una zona tranquilla ma servita di scuole, servizi primari e di trasporti. Avete tutto quello che vi serve. Oggi ho qualcosa in servo per voi, un appartamento trilocale in un contesto di sole 9 unità. Eccoci all'interno. Il nostro lavoro consiste anche nel fare in modo che voi non vediate l'ora di tornare a casa. Area giorno composta da soggiorno, angolo cottura, una vera e propria open space ben gestibile che si affaccia direttamente al terrazzo. I serramenti sono tutti in vetro camera. La pavimentazione è in grass porcellanato, anche nei bagni. L'area notte si compone di una camera matrimoniale da cui si può accedere all'esterno in giardino ma anche da un bagno finestrato delizioso e da una singola molto ampia. La pavimentazione presente nelle due stanze è rigorosamente in palcè. dall'area giorno si accede ad una taverna già predisposta per la canna fumaria. Sempre qui troviamo un ulteriore bagno e un garage singolo. Potrebbe essere la casa giusta per te? Pensaci! Oggi ho la casa per te. Sono a Rubano, un paese che offre la tranquillità della campagna ma allo stesso tempo anche la possibilità di raggiungere velocemente con assoluta comodità Vicenza e Padova, così come i tanto amati Colli Berici e Colli Euganei. Sono qui per mostrarvi un appartamento quadrilocale ubicato al terzo piano di un appartamento di recente costruzione distribuito su due livelli. Venite! No, le scale oggi no. Prendo l'ascensore. Una soluzione dalle metrature interne molto ampie ma cosa molto più importante è come questi spazi potrebbero essere sfruttati da voi. Una vera e propria open space predisposta per soggiorno con angolo cottura. Sempre qui al piano troviamo anche un'ampia camera e un bagno. La pavimentazione che caratterizza l'area giorno e i bagni è rigorosamente in grass porcellanato e questo elemento contribuisce a rendere l'ambiente davvero elegante. Dall'area giorno si può inoltre accedere a un terrazzino. Delizioso! Al piano superiore l'area notte si compone di un'ampia camera matrimoniale con accesso diretto ad un terrazzo abitabile, una camera singola dotata di terrazzo solario e un bagno. La pavimentazione è in palcè. Ah, volevo farvi anche notare la presenza di questi serramenti di legno in vetro camera. Bellissima questa terrazza! Si espone completamente ad est, è sempre baciata dal sole. Ho sempre segnato di fare colazione in una terrazza come questa. La soluzione si completa anche di un garage. Il prezzo? 155 mila euro!